Il Tribunale di Caltanissetta ha rinviato a giudizio i 14 imputati nell'ambito dell'inchiesta bis sull'assistema montante, tra Crocetta ex, assessori regionali, imprenditori e forze dell'ordine. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Caltanissetta, Emanuela Carrabotta, ha rinviato a giudizio 14 imputati nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta sistema montante bis, tra esponenti politici, ex assessori regionali, imprenditori e rappresentanti delle forze dell'ordine. Si tratta del troncone politico delle indagini sull'esistema, da cui tra l'altro è emerso che l'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, avrebbe manovrato, assecondando i propri interessi, parte dell'allora governo regionale preseduto da Rosario Crocetta. Oltre Montante e Crocetta saranno a giudizio dal prossimo 2 maggio gli ex assessori Linda Vancheri e Mariella Lovbello, l'ex commissario dell'IRSAP, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive Maria Grazia Brandara, gli imprenditori Giuseppe Catanzaro, Rosario Amaru e Carmelo Turco, l'ex vicequestorine servizio all'ufficio di frontiera di Fiumicino Vincenzo Savastano, l'ex capocentro della DIA di Caltanissetta Gaetano Scillia, l'ex direttore della DIA Arturo De Felice, il colonnello dei carabinieri Giuseppe Dagata e l'ex capo della security di Confindustria Diego Di Simone Perricone. Gli si contestano a vario titolo i reatti di associazione a delinquere, corruzione, abuso d'ufficio e finanziamento illecito ai partiti, ovvero la campagna elettorale di Rosario Crocetta, che la DN Cronos ha replicato così. «Sono molto sereno e fiducioso nella giustizia. Ho la coscienza a posto, anche perché nulla di ciò che mi viene contestato è vero. Non c'è nessun elemento che possa fare pensare che le accuse siano vere. Affronterò il processo con fiducia e serenità, sapendo che la vicenda si concluderà positivamente e con la consapevolezza che chi è un innocente non può essere condannato. Chi ha fatto dei reati sa come difendersi, ma chi non li ha fatti non sa neppure come difendersi». E l'avvocato Annalisa Petitto, difensore dell'ex presidente dell'IRSAP, testimone chiave e parte civile, Alfonso Cicero, commenta «Una tale mole di così rilevante spessore investigativo e probatorio non poteva che superare il barco dell'udienza preliminare. Il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per tutti i capi di imputazione conferma che l'impianto accusatorio della procura è solido e strutturato. Come difensore di Alfonso Cicero non ho dubbi che le innumerevoli e gravissime ritorsioni subite dal mio assistito per mano di Montante e dei suoi sodali eccellenti, Crocetta, Vancheri, Lobello, Brandara, saranno pienamente provate e corroborrate nel processo che sta per iniziare. Così come per la prima tranche dell'inchiesta sul sistema Montante, le denunce di Cicero, presentate nel settembre del 2015 alla DDA Nissena, hanno trovato a pieno riscontro anche nella seconda tranche.